Cosa devi dirci? Ma buono. Io ed Ella, veniamo a vivere con voi. Gli strozzini sono persone pericolose. Luca, tu hai due lavori. Se vabbè, uno in nero e l'altro con 600 euro in busta paga. Federico, tu? Federico non conta. E si prova ad essere ricchi. Ecco, vedete? È per questo che vi occorrono i concetti base di economia e finanza. Qui ci vuole Ella. Lei saprà cosa fare. Qualcuno ha bisogno di me?